Ragazzi buongiorno da questo paradiso perduto, da questo paradiso terrestre veramente, l'isola di Budelli, siamo nell'arcipierogo della Maddalena in Sardegna, parco nazionale, spiaggia del Cavaliere. Questa è la spiaggia, da dietro un po' di persone e subito questo mare meraviglioso. Spettacolare questa crociera, questa gita giornaliera intorno alla Corsa Smeralda e l'arcipierogo della Maddalena prosegue, questa è la prima tappa, appunto l'isola di Budelli, poi proseguiremo per la Maddalena dove visiteremo il caratteristico centro storico del paese e poi proseguiremo per la Corsa Smeralda per rientrare poi a Portorotondo. Ragazzi ora mi vado a tuffare e faccio un bagno perché qua veramente è uno spettacolo. Ciao a tutti, a dopo.